Siamo sul tetto di Via Bengasi, nello stabile occupato che adesso si sta liberando, siamo al centro delle trattative, alcuni della rete Diritti in Casa sono andati a parlare in comune per trovare una soluzione, alcuni ragazzi hanno deciso di asserragliarsi qua sul tetto e la motivazione, ne parliamo con FUID. Scusa, che dobbiamo fare? Non ci può sdormire, che dobbiamo fare? Andare in autostrada, andare a rubare, capito? Quello è il problema, capito? Grandi problemi, tutti gli europei ci stiamo complimenti a tutti, non c'è crisi, non c'è fuori, non c'è così, capito? Posso farti una domanda, ma qui è un problema che non riguarda tanto più gli straniere quanto più anche gli italiani, nel senso molti di noi sono precari o senza lavoro, è un problema generalizzato? Sì, però senza lavoro, senza dormire, grandi problemi, a che abbiamo fatto? Adesso alcuni di voi sono in delegazione e sono andati a chiedere una soluzione? Scusa, il nord, il nord, il nord, il parma, il nord, di 1000 euro per le comuni ci stanno di 1000 miliardi, ci stanno problemi quando non c'è posto per dormire? Capisco, adesso cerchiamo di trovare una soluzione, grazie a FUID. Scusa di non parlare, ciao! Posso venire qui? La Faita Eh? La Faita? Dove? La Forza Lo vengo io